Beh, questa sera possiamo soltanto essere estremamente contenti, diciamo che la Juventus ci ha fatto il regalo di Natale. Possiamo semplificarla così, un 4-0 in trasferta a Parma in una partita che storicamente non è mai facilissima e che si è rivelata essere facilissima. One football, qui sotto in descrizione. Scaricatevelo tutti, fatemi questo regalo di Natale, dopo che me l'ha fatto la Juve, fatemelo anche voi per tutti i post partita, tutte le notizie del mercato che sta arrivando. Tra l'altro qui nelle schede troverete anche un video che ho fatto proprio a proposito del mercato invernale della Juve e di tutti i colpi che credo possano essere veri e no, su tutte le voci chiacchierate. Però molto bello, molto bello, sono stato felicissimo di vedere una Juve così pimpante. Una serata tranquilla finalmente, una serata in cui riusciamo a dilagare e esprimere il nostro gioco. Sicuramente non il miglior Parma della stagione, non un Parma... Non un Parma, diciamo così. Vanno sempre sottolineate queste cose, però la Juve è tanta roba. Ora, mi leggo proprio da OneFootball le statistiche della partita, proprio perché fanno impressione. Più del 60% di possesso della palla, 19 tiri totali di cui 7 importa, tantissime intensità, un continuo andare su e giù per le fasce. Ve lo dico molto tranquillamente, non ero soddisfattissimo del fatto che Kuluseski potesse giocare in quella posizione lì, proprio perché, lo sappiamo, Kulu ha bisogno di più spazio e Kulu la sblocca. Poi magari non ha fatto la prestazione della vita, non ha fatto la partita più bella di sempre, ma giocava anche in un ruolo molto complicato per lui, dato che faceva il quadrado. Il quadrado questa sera è riposato, è entrato soltanto a pochi minuti dalla fine. Poi Ronaldo che torna a Ronaldo, Morata che lotta come un leone tra assist e gol fa una partita strepitosa. McKennie che è un altro di quelli che corre sempre, poi a un certo punto abbiamo dovuto dirgli guarda Weston finalmente ti puoi riposare, ti sostituiamo, perché se no te continui ad andare forte, veloce, come un leone sempre ogni partita. Io sono contento. Io sono contento perché Pirlo finalmente sta iniziando ad avere quello che ha sempre voluto. Una squadra che gioca a calcio, che tiene il pallino del gioco, che gioca molto sull'ampiezza, che gioca molto in avanti. Il 3-1-6 di Andrea Pirlo, ancora una volta questa sera, si è visto come non mai probabilmente, si è evidenziato tantissimo. E ora aspettiamo, noi abbiamo fatto il nostro, se è stato veramente interessante quegli altri due punti che ci si è lasciati indietro con l'Atalanta, perché poi la classifica parla chiaro, abbiamo bisogno di più punti possibili per andare a riprendere il Milan e l'Inter, che sono là. E poi, come Dazzo non ci sta ricordando in questo momento, c'è stato un grandissimo, un immenso, un immortale, un leggendario. Già Luigi Buffon non so neanche più come definirlo, Buffon questa sera è veramente immenso, grandissimo. Sono contentissimo, ve l'ho detto che sono contento? Trae semplicemente dire sono contento e concludere qua il tutto, no? Allora, abbiamo un'ultima partita prima della pausa. E per pausa attendiamo Natale e comunque ultimo dell'anno, quindi prima delle feste. Poi torniamo in campo già a inizio gennaio, e poi dopo poco c'è il Milan, proprio in campionato. Quella gli sarà una sfida interessante, interessante anche i fini della classifica. Ora, me la vado a cercare, tra l'altro, la classifica di Serie A, perché voglio proprio vederla in diretta. Classifica Serie A. Per commentare esattamente, siamo a 27 punti, pari all'Inter e a meno uno dal Milan, con loro due che hanno una gara da giocare. Quindi direi, mi sento di dire che è tutto aperto. È tutto apertissimo. E qualcuno parlava di Pirlo che non mangia il panettore. Di Pirlo che è inadatto, Pirlo che non avrebbe mai saputo prendere in mano questa squadra, i giocatori non avrebbero mai seguito. Ora, permettetemi di togliermi qualche sassolino, ma io addirittura vedo Cristiano Ronaldo sostituito, e lui e Pirlo che si abbracciano. Vedo un'idea di gioco già ben definita e chiara, che è sempre stata quella che magari faticava all'inizio, ma che ora inizia ad essere evidente. Si vede che c'è la mano dell'allenatore, che è stata plasmata a questa squadra secondo un'idea. E ripeto, è sempre stata quella dall'inizio, e io forse anche a un certo punto avevo, anzi, senza forse, io a un certo punto avevo detto così sembrano non andare, è ora di cambiare. Pirlo invece testardo come un mulo ha detto no, no, io so che questo può funzionare e insisto su questo. Adesso la Juve schiaccia gli avversari, adesso la Juve fa la partita, l'abbiamo già detto anche con l'Atalanta. Ripercorriamo il passato, andiamo a luglio, la partita con l'Atalanta in casa, quel 2-2 là, ci avevano letteralmente dominato, ci avevano appoggiato le palle in testa. Stavolta, diversa, 4-0 al Parma, l'ultimo ma non l'ultimo, il 3-0 a Barcellona. Adesso questa Juve sta iniziando anche a segnare con regolarità. È la miglior difesa, a tutti gli effetti, 10 gol subiti in campionato, è la miglior difesa del campionato da Juventus. E in questo momento ha segnato 28 gol. Il miglior attacco probabilmente l'Inter con 30, se non vado errato, sì, quindi va bene che loro hanno una partita in più, però miglior difesa, e lo saremo ancora per un po', perché la seconda miglior difesa è il Napoli con 12, il Verona con 12. L'attacco abbiamo della potenzialità, abbiamo anche Di Bala che ha ancora qualche cartuccia da doverci sparare, poi eventualmente. Quindi in questo momento è reso conto un bilancio estremamente positivo e questa partita col Parma è l'ennesima cosa, l'ennesima goccia, ma potrei dirne tantissime da De Ligt che sta giocando come un super veterano incredibile, fa il trequartista, cioè De Ligt gioca sempre altissimo, va a prendere gli attaccanti là, in alto. C'è Danilo che sembra un giocatore di livello altissimo, Quadrado forse mai così bene come quest'anno, Morata sicuramente mai così bene come quest'anno, Ronaldo che continua a segnare il famoso penaldo, segna solo sul rigore, segna solo sul rigore e poi segna solo di testa, segna solo di piede, segna solo con le piccole, segna solo nelle partite che non servono, allora a questo punto sarà la nuova scusa, no, no, c'è Ronaldo che sta segnando tantissimo e anche qua, probabilmente merito dell'incastro, del ritaglio che gli ha dato Pirlo a Nithano del suo gioco, poi magari non abbiamo sempre dei giocatori che le giocano tutte perfette, ma quale squadra nel mondo è così? Io in questo momento sono super soddisfatto dell'aiuto di Pirlo, sono veramente contento di vedere quanto stiamo raccogliendo dopo aver seminato, quindi diamogli fiducia, io la fiducia sicuramente gliel'ho sempre data, ed ero uno dei pochi probabilmente anche nei momenti più bui a dire bisogna insistere a compirlo, bisogna insistere a compirlo e mal che vada lui dovrà cercare di cambiare qualcosa, McKennie? McKennie è un'altra intuizione tra mercato e campo che da quando è entrato McKennie questa Juve gira con dei ritmi altissimi, ha dei giri diversi, Parma stasera ha nichilito completamente, ripeto, non mi voglio neanche soffermare troppo su questo Parma che però ha fermato il Milan, qualche giorno fa Milan capolista, per dire, però vedo la classifica che in questo momento è al quindicesimo posto con 23 goals subititi e 12 segnati, 13-12 punti, quindi sicuramente non la squadra che deve darci la nostra identità, la nostra dimensione, poi adesso arriva le partite complicate, il Milan, l'Inter, avremo anche poi il Napoli da tornare a sfidare dopo che c'è saltata l'andata, non ricordiamoci che la nostra classifica è tra virgolette inquinata a questi tre punti che potevano essere comunque tre punti lo stesso in caso di vittoria, però Juve di Pirlo c'è. Pirlo c'è, la Juve c'è, i ragazzi, la cosa più importante, i ragazzi stanno seguendo Pirlo, tra poco c'è il mercato, abbiamo la possibilità di andare a minare, a costruire, a mettere i puntini su lì tra difesa e centrocampo, un vice Morata, quello che riterranno più opportuno, qualcosina andrà fatto, sono convinto che qualcosina si farà e quindi con una volta totale fiducia nella società, in Pirlo e in tutte le persone che lavorano quotidianamente nella Juve. Un mi piace a questo video, ci vediamo domani per le pagelle con la felpa. Io non so più come dirvelo. Allora,